Un'escursione nel deserto libico egiziano dove si trova il grande mare di sabbia guidata da professionisti è estremamente un'esperienza unica e straordinaria. Quest'area del Sahara è spettacolare per la sua bellezza e suscita forti emozioni. È una delle attrazioni dell'eoasi di Siwa. Si gode di un panorama mozzafiato. Grazie a tutti.